Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo Figlioli, questo è il messaggio che avete udito da principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino, che era dal maligno e uccise suo fratello, e per quale motivo l'uccise, perché le sue opere erano malvagie, mentre quelle di suo fratello erano giuste. Non meravigliatevi, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha più la vita eterna che dimora in Lui. In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che Egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo, e vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole, né con la lingua, ma con i fatti, e nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità, e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore, e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo, egregi del Suo pascolo. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Varcate le sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Perché buono è il Signore, il Suo amore è per sempre, la Sua fedeltà, di generazione in generazione. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse, seguimi. Filippo era di Bezzaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè, nella legge e i profeti. Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazareth. Natanaele gli disse, da Nazareth può venire qualcosa di buono. Filippo gli rispose, vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui, ecco davvero un Israelite in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò, come mi conosci? Gli rispose Gesù, prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di Fichi. Gli replicò Natanaele, rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei re di Israele. Gli rispose Gesù, perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di Fichi, tu credi. Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse, in verità, in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo.